Senatore Fasano, le elezioni comunali si avvicinano, qual è la linea di Forza Italia? Quella che vi abbiamo raccontato in questi giorni e che preciseremo questa mattina, quella di fare un percorso con gli alleati tradizionali, sappiamo che è un impegno gravoso ed è in salita, e proprio per questo, per senso di responsabilità e di coalizione, cerchiamo di fare questo percorso con i nostri tradizionali alleati. Credo che ci riusciamo. A trovare un candidato esterno ai partiti per trovare l'unità? Anche questo l'abbiamo già detto, lo ribadiremo questa mattina in modo che sia chiaro. Noi andiamo a individuare una figura non divisiva perché siamo consapevoli e siamo stati anche protagonisti di scontri con i nostri alleati. Non è che le cose si cancellano, per cui su questo ragionamento siamo a buon punto, devo dire, siamo a buon punto. Non alle primarie quindi? Credo che non ne possa bene la domanda, consentimi. Noi siamo per un accordo.